Bentornati alla LaWine, oggi con noi Giampaolo Giacompo che è collaboratore della Guida Slow Wine, degustatore e amante e conoscitore del rock, come possiamo anche vedere dalla tua inquadratura. Introduci l'argomento della puntata di oggi, cioè questo parallelismo tra movimenti del rock e diciamo movimenti nel mondo del vino. Oggi ci parlerai del punk rock, amichevolmente detto punk. Contrariamente a quanto pensano in tanti che associano il punk al periodo londinese, quello dei Sex Pistols per dire, in realtà il Sex Pistols è la parte, lo scenario londinese forse va a sancire la fine del punk, per fare un po' d'ordine, per capire da un punto di vista estremamente storico della musica, arriviamo dal periodo della disco, quindi degli lustrini, tutto questo movimento musicale della progressive rock anche dall'altro lato, molto pieno, molto ricco, molto enfatizzato, arriva questo urlo, questa sorta di grido assoluto del movimento punk. Poi la parola punk è simpatica perché non c'entra niente con la musica, anzi i musicisti che erano definiti punk non volevano farsi definire punk perché la parola punk doveva identificare quelle persone in carcere che subivano poi gli atti di bullismo da parte degli altri perché erano detti i punk. Poi questa parola è stata utilizzata in un magazine, in una piccola rivista di Boring a New York che era una rivista di fumettistica così e poi è stata applicata, è stata attaccata, appiccicata addosso a quelle bende che frequentavano un locale in New York che è il famosissimo CBCB and Home Fugue, che sarebbe dire Country Blue, Grass Blues and Other Music for Uplifting Gurmandeiser. Vigile, da ricordare. Vigile, però è stato un locale fondamentale per la nascita proprio di questo movimento dissacrante e anche proprio questo movimento che aveva voglia di scardinare le regole. Siamo al conto alla fine degli anni 70. Se fino a quel momento poteva suonare solo chi aveva studiato chitarra e ha suonato la musica classica, sapeva suonare, sapeva gli arrangiamenti, il solfeggio, eccetera. Da questo momento in poi comincia a suonare tutti e tutti possono fare arte e tutti possono fare tutto. In realtà è venuto a fare un gran casino anche in tutta questa storia qua. La parola classica del punk era F*** the system e andare da mandare a f*** tutto. Cominciano ad uscire questi gruppi di quel tipo di television, mi viene in mente, Iggy Pop and the Stoogies, Blondie, magari Tokines e soprattutto New York Dolls. Questo gruppo che a mio avviso va un po' ad enfatizzare la parte del punk che si vestivano con i vestiti delle loro amiche, che si vestivano da donna, pur non essendo omosessuali, nel senso che era giusto per provocare tutto quello che era l'establishment americano e anche quella forma di bigottismo che c'era in America, no? Quindi... Sì, andava di pari passo con la cultura, no? Cioè, era proprio un movimento anche che veniva da quello. E le figure fondamentali, per quanto mi riguarda, penso siano veramente Iggy Pop da un lato e i Ramones, un altro gruppo importantissimo che si muove nella scena new yorkese. I ragazzi inglesi che vedono Iggy Pop cantare in questa maniera tutto e i Ramones se ne innamorano e inizia tutta una sorta di movimento di una nuova generazione musicistica, i Damned, i Clash, Shoes and the Benches, i Generation X, i Buzzcocks e i Stranglers, ovviamente. A differenza del movimento americano che suonavano per far casino, per divertirsi, in Inghilterra invece avevamo più un'accezione più politica. Dici, vabbè, e col vino? Cosa c'è questa cosa? Ci stavo arrivando! Ok, che c'è il col vino? Ecco, invece in questo caso il parallelismo lo faccio proprio con quel movimento che nasce nella linea di confine in Italia tra Giulia e Venezia e Giulia, soprattutto in quella linea di confine tra Giulia e Venezia e Giulia e la Slovenia, capitanati da Josko Gravner, inizia questa sorta di urlo, appunto questa voglia di scardinare le regole perché si arrivava ad un periodo in cui l'enologia aveva preso sopravvento. Per cui, se è vero che era importante ed è ancora oggi molto importante la figura dell'enologo e il concetto dell'enologia, ma nel momento in cui prende sopravvento sull'identità allora c'è qualcosa che sfugge di mano. Nella musica nasce il punk che tira quattro saete e distruttura tutto. Nel vino, a mio avviso, nascono i cosiddetti vini naturali. E qui, anche qui, in che periodo siamo in Italia? 96, circa 95, 96, 97. In quel periodo, appunto, Josko Gravner per primo, ma senza sapere o voler fare il vino naturale. E che si accorge che il suo vino non è più riconoscibile, non riusciva più a trovare un'identità, non riusciva a trovare più un'anima. E accanto a lui anche figure come Stanco Radicon, o Dario Prinzic, o Nico Bensa della Castellada, Walter Blenchenich, Pino Rato invece in Piemonte, Lino Maga. Queste figure, in qualche modo, rivoluzionarie, che decidono che non ci stanno più le regole dell'enologia spinta. La loro idea era di andare un po' al di là dei canoni accademici studiati a scuola di enologia, il vino perfetto, il vino proprio da manuale, diciamo. Sì, esatto. Loro iniziano un po' a interrogarsi e a dire, ma scusa, ma perché dobbiamo sempre filtrare? Perché dobbiamo usare gli aviti selezionati? Perché dobbiamo stabilizzare? Perché acidifichiamo, disacidifichiamo? Proviamo a fare senza. Si trovavano periodicamente, martedì, mercoledì, a metà settimana, spesso da Josko Gravner o da Stanco Radicon, in cucina, e ognuno portava il suo vino, dicendo, guarda, io ho iniziato a togliere la filtrazione, a togliere l'anidia solforosa. Su questa è una prova, tutte prove che si facevano microvenificazione anche, attenzione, perché poi bisogna portare avanti comunque l'azienda. Però loro sono stati coraggiosi perché poi si sono lanciati. E il risultato era più o meno come il risultato del punk di allora, per cui era una non musica per certi versi, e allora era un vino, diciamo, discutibile, se non altro, nel senso aveva degli evidenti effetti tecnici, ok? Che oggi per me non sono ammissibili, ma che all'epoca ti facevano prevedere una sorta di futuribilità del mondo del vino. C'era un periodo in cui si diceva, ma il vino naturale è una moda passeggera, eccetera, da quelli anni 90, metà anni 90 ad oggi sono passati 25-26 anni, siamo ancora qui a aspettare che passi in sta modo, ma in realtà non passano un po'. È come la musica alla fine, anche il punk, per quanto abbia avuto il suo ruolo al suo tempo, ma ancora oggi c'è l'eco del punk, la gente non se ne accorse, ma anche solo nello stile di vita. Cioè la possibilità a un certo punto di mandare a *** tutti, seconda volta BIP, aiuta, libera, capire, libera, toglie un atteggiamento questo del punk. Adesso si fa con un po' più di rispetto, diciamo, rispetto ad una volta. Oggi in Italia ci sono anche tanti piccoli produttori, tanti vignaioli che hanno preso le mosse un po' da Gravner. Ce n'è qualcuno in particolare che vuoi consigliarci? Guarda, il primo che mi viene in mente, che secondo me ha seguito le orme di Josco, è stato in parte italiana Damian Pozversic e in parte invece slovena mi viene in mente Marco Fon. Giusto per fare due nomi, ce ne servono molti di più. In giro per l'Italia veramente ce n'è un esercito, cioè da Giovanna Morgante a Camillo Donati con i rifermentati, per esempio è stata un'altra figura importantissima, terra di pietra con Cristiano Saletti in Valpolicella e tutto il gruppo dei Re Valpo, questo nuovo gruppo rivoluzionario che si è creato nel mondo della Valpolicella. In Piemonte c'è solo da divertirsi perché c'è stato un grandissimo sviluppo attorno al movimento dei vini naturali, un po' partendo da Beppe Rinaldi. E qualche produttore del sud invece? Infatti stavo pensando all'Etna, a me piace moltissimo Vini Scirto, da una parte è la Moresca che invece è un'altra... Vini Scirto sono sull'Etna a Passo Pisciaro, Valeria Giuseppe e invece Filippo della Moresca che sta più nella parte meridionale, fa frappato e la Riesco è bellissima perché l'interpretazione così libera diciamo nella fase di vinificazione permette proprio di riuscire a tradurre perfettamente il terreno di appartenenza. Con questi vini che per certi versi possono anche sembrare poco condiscendenti, poi in realtà non lo sono perché hanno una loro forma di armonia, hanno magari violenza, hanno forza, ma hanno personalità, non si adeguano al sistema in generale, ma hanno una loro armonia e soprattutto una volta che poi li bevi ti rimangono dentro, capisci? Da quella è il grande e facile, un po' come accade poi nella musica, non se ci pensi. Ma infatti è molto bello perché mentre dicevi hanno forza e hanno violenza, sembrava suonarsi la chitarra mentre dicevi. Quindi direi che hai reso e concluso questa puntata con un gesto anche. Quindi Gian Paolo, allora io ti ringrazio, direi che abbiamo preso appunti a questo punto perché abbiamo anche tanti nomi, nei vini da assaggiare per i curiosi, musica da ascoltare grazie al cielo ce l'abbiamo. Gian Paolo, grazie ancora di essere stato con noi. Grazie a te Michela, ciao a tutti e stay rocked.